Buongiorno, siamo al Vinitoli Special Edition, siamo nello spazio del Dr. Wine Collection e abbiamo con noi un grandissimo personaggio molto noto in tutta Italia, ma soprattutto nel piatto di gas, come il dottor Cellari. Ci viene a parlare, a presentare un po' di questo progetto di Vallevicio, che è un'azienda nata di recente, ma che ha già ottenuto per gli ingegneri per i risultati. Sì, grazie di questa bellissima introduzione, sono parte dell'azienda per il 2020, è un progetto, come hai detto tu, nuovo, ma già con affermazioni a livello nazionale e anche internazionale, è un progetto che nasce con una piccola idea analogica che poi è diventata molto grande, proprio perché il proprietario aveva iniziato il progetto Vallevicio con una districolazione di un convento, diventato poi un grande albergo 5 stelle, a piacente a questo albergo c'erano questi 3 e 3 di vigna che dovevano essere l'unico vigneto di Vallevicio, poi oggi ne abbiamo invece 105 e quindi siamo cresciti. Quindi siamo sempre in quest'ottico ormai che è consolidata, perché il progetto Vigna va anche al di là del vino, ma che si inserisce anche in una ospitalità, in una vina del territorio in una maniera, posso dire, più vera, profunda e anche più ampia. Assolutamente sì, è proprio per questo che la famiglia Wolf ha proprio deciso di investire proprio nel vino e nel canti classico, proprio perché crede fermamente nella valorizzazione del territorio e nel dare più spunto proprio con la produzione analogica a quello che poi è stato il complesso progettuale e complessivo dell'azienda di produzione. Ecco, e dove insegniamo Valle Pricciola con questa nuova divisione che finalmente devolue si è fatta nel Pianti Classico e secondo me è stato un grande risultato, un'assegurale. Diciamo che Valle Pricciola intanto bisogna inquadrarla geograficamente, perché noi siamo al comune di Nastro di Vigna, quindi diciamo nella parte sud del Pianti Classico, ma allo stesso momento siamo nella parte altitudine più alta della zona sud, quindi siamo oltre 400 metri su livello del mare, quindi beneficiamo sia di quello che dà i terreni alargidosi, tipici della zona sud del Tandilassio, ma allo stesso momento grazie a questa importante attitudine abbiamo grande freschezza, grande profondità, quindi una gran selezione pieno che il Dottor Wine quest'anno è voluto premiare l'azienda Valle Pricciola, proprio in centrale questa struttura e grande freschezza. Bene, ringraziamo Cellari. Grazie a tutti. Grazie.